L'obiettivo dello scrittore verista è la produzione di un romanzo vero, più vero di quello dei romantici. Ma come riesce a perseguire tale obiettivo? Anzitutto traendo la materia per la sua scrittura dalla realtà contemporanea, l'unica veramente osservabile. E poi studiando il comportamento umano al pari di un fenomeno naturale, cioè determinato sulla scorta della filosofia positivista da rigidi meccanismi. Tra questi meccanismi ci sono quelli determinati da finalità economiche e utilitaristiche, dalla legge del più forte, dalla brama del meglio, cioè del benessere, dalla avidità della roba. Queste finalità sono state instillate nell'uomo del progresso e si possono ritrovare in tutti gli strati sociali. Per far emergere tali meccanismi e finalità che caratterizzano la società, lo scrittore deve descriverla oggettivamente, adottando il principio dell'impersonalità. Lo scrittore deve limitarsi a osservare la realtà e a descriverla semplicemente, senza esprimere alcun giudizio d'opinione, come faceva invece il narratore oniscente. Deve lasciar parlare i fatti, deve far sì che l'opera si faccia da sé. Per raggiungere questo scopo, la voce narrante regredisce a livello dei personaggi. Per questo si parla di narratore popolare.